Mi chiamo Cristina, sono stata operata a un adenio calcinoma a 8 cm dal reddito. Adesso sono morita, però con la vibrazione ho sentito tutta questa parte in basso calcucide che pian piano si distrendeva interiormente proprio. Dove l'hai sentito ancora? Dietro e poi anche? Poi ho sentito anche quando il colmo, avevo questa rigidità nel colmo. E ho sentito le braccia a lungo e spugionare piano piano. E tutto che si ammigava si distrendeva, tutto il colmo. E dopo abbiamo fatto il respiro, mettendo dentro l'amore e facendo uscire sporcizia. E poi abbiamo usato il diapason. Ho sentito queste vibrazioni che allentavano tutto quanto. Con il respiro, con tutto il diapason. E poi abbiamo fatto una seconda lettura sul lettino armonico. Esatto. E lì proprio mi sono distesa molto bene ed è comparso una vibrazione circa a metà della schiena. E ho sentito colgato con i piedi questa vibrazione. E gli altri? Che cosa è successo con gli altri? Le ho sentito prima? Perché ho sentito col colmo proprio, si è rilassato e si è disteso. Ok, sì. E tutto il vaccino si è disteso proprio molto bene. Cioè io adesso, adesso personalmente, che sono qui seduta, proprio il nostro biococigen in maniera molto naturale. Ok. Lei, come lei si sente emozionale? Mi sento sempre molto leggera. Quando riaffronto il dolore, quello che ha avuto il percorso, eccetera. quando ho queste percezioni fisiche così di distensione, mi sembra veramente di ritornare proprio come prima. Grazie. 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 Grazie.